Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. Ricomincia un campionato per il Foggia, un campionato particolare perché è il campionato che rivede per la quarta volta Zeman seduto in panchina. Finisce 0-0 la partita tra il Monterosi e il Foggia. Diciamo subito che non è stata una bella partita. Dal Foggia ci aspettavamo qualcosina in più, aveva dato un'impressione molto diversa contro la Paganese in Coppa. Qui invece, non dico che si è fatto un passo indietro, ma la squadra è sembrata un pochino più impacciata, quantomeno ha trovato un avversario molto più agguerrito rispetto a quello che è successo soltanto la settimana scorsa in Coppa. Zeman cambia un po' le carte in tavola, la formazione è un po' diversa, fa giocare Ferrante, un attaccante, nonostante si dicesse che non fosse ancora in perfette condizioni fisiche. Perché giocano Maselli e a sorpresa Girasole come centrale. Insomma la squadra balbetta un po' nel primo tempo e ha delle buone occasioni con Maselli che scambia molto bene con Curcio proprio all'inizio. Manca un gol clamoroso, seguito da un colpo di testa molto bello di Ferrante che però non riesce a centrare la porta. Per il resto poi nel primo tempo il Monterosi si fa vivo più di una volta davanti alla porta di Alastra, si rende pericoloso. Non ci sono azioni clamorose ma insomma si soffre. Nel secondo tempo Zeman cambia qualcosa, entra Mercai al posto di Ferrante, esce Maselli. Insomma il Foggia cerca di ricostruire piano piano le trame di gioco, ce la fa fino alla tre quarti. Dopo non riesce questa squadra a concludere. Ricordiamo un tiro di Rocca che forse meritava qualcosa di più al tredicesimo del secondo tempo. E poi succede tutto negli ultimi minuti di recupero. quando il Monterosi rischia di passare in vantaggio con un bel colpo di testa neutralizzato da Alastra e invece poi dopo è anche il Foggia che va proprio sullo scadere vicinissimo al gol con un tiro di Peterman. Che dire, siamo all'inizio del campionato, la squadra oggi non è certamente piaciuta, non ha fatto quello che magari ci si aspetta dalla squadra di Zeman. Abbiamo visto poche azioni da gol, però concediamo al Foggia che siamo soltanto alla prima giornata di campionato. E' agosto, i ragazzi hanno ancora ovviamente i carichi di lavoro pesantissimi. Avete visto Cuccio, l'ho visto particolarmente dimagrito, Rocca. Insomma i ragazzi si vede che hanno lavorato molto sul fisico. Credo che il Foggia andrà giudicato nelle partite a venire. E' importante, secondo me, è stato importante portare un punto a casa e permettetemi di parlare delle curve. Sono tornati in grande massa i tifosi e questa cosa ci ha particolarmente emozionato. Hanno cominciato a incitare il Foggia quando sono arrivati tutti i ragazzi da Foggia. C'è stato un problema, credo, con i mezzi, ma quando sono rientrati tutti, mancava poco alla fine del primo tempo. E' cominciato lo spettacolo di colori, di incitamento e ci ha fatto venire i brividi perché erano quasi... Era un anno e mezzo che non vedevamo uno spettacolo del genere. Rivedere una partita con il coro, l'accompagnamento del tifo, ovviamente in questo caso del tifo rosso-nero, è stata una cosa completamente diversa. Abbiamo finalmente rivisto una partita di calcio e ci aspettiamo che nel futuro vedremo sempre di più questo spettacolo sugli spalti, non solo in trasferta ma soprattutto a Foggia, sperando che con le ultime indicazioni si possano avere quanti più spettatori possibili allo Zaccheria. Permettetemi di salutare Foggia Calciomania, con la quale continua la collaborazione anche quest'anno, il suo editore Trifiletti e Teleblu che da quest'anno è entrata, anche lei diciamo, a collaborare con Mitico Channel per darvi sempre qualcosa di più rispetto agli anni passati, sono dieci anni che Mitico Channel ormai lavora per i tifosi e speriamo di dare il meglio possibile e di tenervi sempre aggiornati su quello che succede al Foggia, soprattutto nel mio caso quando gioca in trasferta. Un abbraccio a tutti, io la vedo così, un caro saluto da Francesco da Prato, a tutti gli amici di Mitico Channel.